Come hai visto cambiare per grandi linee questo filore nel quale tu sei stato sicuramente un precursore nell'ambito italiano quando noi abbiamo importato il concetto di heritage management fino ad arrivare a company lens dove esponi una tesi forte che mi sembra ancora una volta avanti, cioè superare la dimensione privatistica per fare rete. Il territorio può contribuire alla valorizzazione della cultura industriale, quindi non solo gli archivi e musei di impresa che sono quasi sempre, al 99-29% nati su volontà delle imprese stesse. I musei e gli archivi di impresa nascono nella stragrande maggioranza come il portato della volontà di costruire una strategia aziendale, quindi nascono come strumenti al servizio dell'impresa, al servizio dell'impresa in termini molto lati ovviamente, in termini di comunicazione, in termini di marketing e quindi la testimonianza della cultura di impresa anche all'interno dell'azienda per i nuovi assunti etc., nasce come archivio legale. Quello che almeno dal mio osservatorio percepisco è che queste strutture sono sempre più aperte a contaminazioni da parte del territorio e da parte della cultura e della società, probabilmente anche per volontà delle stesse aziende. Un altro fenomeno che io sto riscontrando come processo anche di modifica e di cambiamento all'interno soprattutto dei musei è che sono sempre più luoghi di temporaneità. Mentre i musei nascono come musei permanenti che raccontano la storia in qualche modo di un marchio, sempre più invece diventano luoghi che ospitano la storia di un marchio ma anche molte sfaccettature di questo marchio magari interpretate da mostre temporane che ne mostrano degli aspetti magari non banali. Nel mio primo libro parlo di grande business card, quindi per cui quando le persone arrivano dentro l'azienda quella ti dice questo siamo noi, quindi nascono proprio con una fruizione molto di display della storia aziendale, però visto che diventano sempre più invece soggetti culturali all'interno del territorio, sempre più questo aspetto che comunque resiste, comunque un aspetto di display della storia aziendale, però anche in termini proprio di spazi lascia sempre più spazio a una costruzione di punti di vista diversi attraverso la mossa temporanea. Io penso che questo sia il next step, cioè far diventare gli archivi e i musei di impresa non solo strumenti al servizio dell'azienda, funzione nodale importantissima, ma anche luoghi di partecipazione pubblica da parte di un target di visitatori molto più ampio rispetto al mero appassionato. Questo tema del turismo industriale è un tema ancora in Italia molto piccolo come numeri, ma con una forte potenzialità, quindi anche molti territori stanno credendo in questo valore legato agli archivi e musei di impresa. Le auto, i gioielli, l'alto artigianato, la moda, sono luoghi di passione sostanzialmente, sono luoghi per cui il nostro paese è riconosciuto al mondo. Il mio lavoro è cercare di fare questo, di prendere tante storie e di queste tirare fuori un punto di vista e quel punto di vista deve essere il più possibile ampio per tutti e anche fare emozionare le persone, perché poi alla fine quello che serve un museo è che quando uno esca sia felice. Grazie a tutti.